Il messaggio ripete, rimorso, rimorso. La missione non può aspettare, capo. Diamoci una mossa, Marine. Repuliamo il luogo dello schianto, via! La missione non può aspettare. La missione non può aspettare. La missione non può aspettare. Non può aspettare a portare mezzi corazzati e rinforzi in città. Avranno bisogno di una scorta che non tema il fuoco nemico. Le truppe Covenant si concentrano sotto il trasporto. Non credo che vogliono che tu salvi a porto. Quel ponte è la via più breve verso il centro cittadino. Capo, il trasporto ha lanciato un'ondata di capsule. Si stanno avvicinando alla nostra posizione. Ho analizzato le comunicazioni tattiche dei tuoi. Sono sorpresi, confusi. Non si aspettavano la nostra presenza. E la mia è la nostra. Non si aspettavano nemmeno. Sembra strano, lo so. Ma spiegherebbe perché sono qui con una flotta così esigua. Che cosa con me? Dai! Dai! No! No! Oh! Sì 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 Sì